allora gilda re siamo pronte qui vedo che già è cominciato dici tutto cara che famo ciao amori miei eccoci qua allora qua facciamo un po di risetto freddo va bene un'altra versione semplice e buona va boh ecco qua allora adesso qui ho tagliuzzato la rughetta vedete ecco qua rughetta adesso ci mettiamo un po d'olio ecco qua vedete un pochettino d'olio ecco qua poi ci mettiamo un po di pepe e un aggiuntino appena appena di sale ma proprio poco e niente gli è parente ecco qua allora questo è 100 grammi di salmone ecco va bene il salmone affumicato e poi va bene voi quello che vi piace mettete allora salmone tagliato mettiamo la rughetta l'ho tagliuzzato eccola qua allora la rughetta è un mazzetto però non lo so se ce la metto tutto non vediamo io l'ho pulita l'ho lavata allora il riso è 250 grammi che io ho lessato con un pochettino di sale va bene poi la rughetta è solo quel pochino che va condita l'altra non è condita vedete allora poi questa è una scatolina di mais quella piccolina la più piccolina che c'è diciamo ecco qua un'altra sporvera di pepe pepe e poi mettiamo un po' di sale eccolo qua eh un po' di sale ci vuole ecco fatto allora poi qui c'è mezzo limone spremuto eccolo qua eh che lo mettiamo dentro poi a chi piace ne può mettere più oppure non mettercelo però un po' ci sta bene dentro anche perché c'è il salmone così sgrazza un po' è 100 grammi di salmone va bene ecco qua mettiamone un po' alla volta e giriamo ecco fatto vedete questa è semplice e buona buonissima ecco qua delicata fresca semplice ci ha tutto come Gildare è la nostra qua dai Gildare ecco qua guardate che bella vedo ora di mangiarla questa è la mia passione guardate che bello poi guardate belli pure i colori eh come sentono ecco qua e questa è pronta non ci vuole vuole niente andiamo vai Gildare si è guardate un po' ma quanto è bello allora ragazzi la rughetta che mi era rimasta l'ho messa intorno tanto dopo quando lo prendiamo sappiamo pure quella che spettacolo guardate che bello Gildare è bellissimo semplice semplice eh va bene una meraviglia uno spettacolo brava Gildarella anche oggi ci ha colpito nel segno ah 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 n'ha resistito n'ha resistito e e e e fateve sto bel risottino freddo guardate che bello che è ecco così vai Gildare è bello e buono bello e buono eh vabbè bello e buono e fatto bene e certo stayingercato bene invece io quando stavo al mercato dicevo bello buono e costa poco a Vabbè va allora belli miaaci tanti baci belli sempre dal cuore e come dici sempre tu piatto ricco micifico spettacolo un bacione grande a tutti allora tanti baci belli dal cuore e dalla cucina di Gilda sempre ciao e fatelo perché guardate è favoloso, è delicatissimo buonissimo e delicato mazza quanto è bello, non vedo la tassa giallo dai va Gilda mettilo al fresco così poi se lo mangiamo bello, fresco, buono ciao amori ciao, bacio a tutti ciao